buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di megan jordi io sono megasuperroxxas e oggi siamo con jordi sai si capisce che sta un po male che sei raffreddato con la febbre e con un infarto eh si oggi siamo su warface un fps free to play totalmente che potete trovare su steam al modico prezzo di 0 euro visto che è free to play ahahah sponsorizzato da il porco pazzo si carne di tutto e volume con oggi vi offroniamo l'offerta di fare la dieta del verme solitario eh guarda si capisce che tuo zio è giobastiani giordo in questo piatto si vede la tua grande abilità di prendere materie prime di prima qualità e trasformarle in piatti di merda tuo padre quando facevi il bagnetto al posto di mettere paparella metteva fond si mi stai riludendo vuoi che muoro dove sei dove sei dove sei dove sei dove sei eh ciao giorgio ciao eh giorgio guarda in quella partita io ti dicevo qua ad esempio premiè si lo so lo so fare è brutto imbecilla ah non c'è il fuocamico cavolo c'è il fuocamico ma dai ne avevo killato quasi quasi uno però mi mancavano i proiettili puoi dare no a giorgio no qualche altro proiettile ah questo si e non lasciare che dario faccia il ks il ks il ks ehm ma è tutto saldami tu ma come faccio a curarmi ehm no ti si cura da solo più o meno uh un'altra kill signori sto diventando troppo pro aia eh ti vendicherò io dario grazie ehm mi ha vendicato pittris vabbè eh in verità pittris sono io non è vero tu sei giorgio su uno uno quaranta settemila trecento quaranta sette xxx nabbo uno uno mi piace come nickname no scappa 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 buongiorgio ragazzi io sono tre su quattro ora tu invece hai fatto una su sei sei una vergogna ma io nell'fps gioco per giocarci non gioco per camperare o fare cose io non sto poterà porca miseria mi grande dudo no ma me lo sono trovato davanti c'è chi no mother father no io c'è nove otto sette sei cinque quattro tre due uno capodanno esosso nense zoso eh esosso nense zoso so che è la mia professoressa di di algebra si 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 ma di l'altro stranieri questa è una rapina ho detto che questa è una rapina fotteti ma che cos'è le persone si mettono in chat vocale mentre giocano sono pazzi non l'ho mai fatto io voglio fare un chat vocale no dico qua su warface in pratica premono un tasto come quale è questo tasto non lo so non voglio saperlo ciancian cana in cana in cana molto ero su team fortress e lo sniper non mi ricordo chi mi ha sparato un scu'ho fatto amico mio ai 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 eh mi hanno cambiato mi ha sparato col bazooka si mi ha sparato con un bazooka e l'ho scrivata alla matrix all'ultimo secondo Io ho fatto 5 kill e tu 4 Ma che sei forte, 4 kill, sei forfissima amico Cioè tu manco mi ringrazi Crepa, muore, disgraziamo, muore, Crepa Ma chi stai colpendo? Quelli là, ho fatto già una kill io Adesso siamo 5 a 5 Bravo, bravo Perché non c'è fuocamico? Perché non c'è fuocamico? Senti amico, amico Perché non ti posso dare a fuoco? Aia, che cosa è stato? Aia, che cosa è stato? Una granata Creerete Perché cosa sarei dietro? Granata fumogeno Ah, per far confondere gli amici Sì, Giorgio, sei kill, grande, guarda Come punteggio sono superiore a te Faccio, 10 Se ne fa, io sono più bello Io sono tutto abbronzato Ok, siamo di nuovo pari Bravo, bravo Partito Ma dietro c'era un tizio Ho paura che sia morto No, ma dai vienono finiti porati e mi hanno rubato la chi coi pepponi è finita la partita eccoci ragazzi seconda partita del giorno ovviamente dario mi ha rinfacciato e non vuole più stare con me in partita ma grazie ora lo sai che cosa ti faccio lo sternuto nella vergogna che schifo spuntato su tutto round the start io ho già una mascherina sporca poverino dai prendi un po di acqua guarda questa è una questa è una cistella di benzina un'esplosione io adoro le esplosioni particolarmente quelle di uranio what the fuck shit man I'm a job with your father father but I'm not very worthy to do I kill yeah già due kill hai fatto stai scherzando no kill 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 è lui kill la mother father una kill io ne ho fatte già tre no non è vero ne ho fatte due ho fatto due kill grande vabbè però tu sei molto più forte fattiti 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 ecco oi ma hai fatto paura amico 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 il personaggio sta si è bagato è sotto il terreno uh bello si sta facendo il pavimento è bravo il maschalzoni così si fa vai ingravi dal pavimento ingravi io voglio un figlio che sia un pavimento lo voglio troppo ho fatto una kill ma come l'ho fatta bisogna vedere muori 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 ma come schifio è morto aia muori 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 no no una kill e uno ha killato me 5 su 5 sai chi è killato ah dite nei commenti se volete vedere giorgio giocare a battlefield io non so giocare a battlefield è lo stesso di warfare giorgio però warfare i 6 più figli oh ho visto uno mio battlefield è questo qui mi ricorda di più call of duty vabbè si perchè le mappe sono piccoline è figo il meme no io l'ho giocato call of duty intendi ghost l'ultima uscita no black ops 2 ah no black ops 2 era bello ghost ghost mi ha deluso si anche a me col cecchino mi fingo assalto ma come ragazzi l'avete visto io ho mirato ragazzi avete visto vero ragazzi ragazzi no no raga al al non mi fate parlare fate schifo ho fatto altre due kill merda tutte e due al vostro spawn ahia dario mi sento figo merda mega super roxa mega super ma come mai eh because i can forse la nostra squadra ha vinto rieccoci ragazzi nuova partita terza partita l'ultima partita tatatatatatatata e io sono più forte di prima perchè ho bevuto l'essenza di yoga ho killato un mio amico ma non si vuole c'è il fuoco nemico c'è il fuoco nemico amico c'è il fuoco amico guarda io ho fatto due morti queste due morti neanche una kill peggioro sempre più Mi sa che t'hanno un po' ucciso Oddio l'aereo No, l'aereo no E ti oscura la vista Mi sono sporcato una mascherina Datemi un panno Mi pulisco con le ruote di questa bici Ok, hai fatto Questi copertoni sono meglio Ok, va meglio E vabbè, ma non si vede una cippa Screpa, crepa, crepa Oh, finalmente una kill Una Una, ripetiamo Una Due Maledetto Hai ucciso me Lo so Benissimo E' schifo Fattelo 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 Accense Chissà dove glieli metti i proiettili E che palle, però non si killa da dietro Mister Epic Face Fottiti Eh, da dietro Eh, cioè Vediamo se ti trovo, Dario E vediamo se io Chi sta Chi Chi mi sta Ti ho ucciso uno, mi sa Non ho letto là sopra Chi mi sta Chi mi sta Chi mi sta Chi mi sta Grazie a tutti.